Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno 2023. Amici dei pesci, abbiamo diavolo e eremita, allora potrebbe essere un periodo di isolamento forzato per qualcuno, quando c'è il diavolo si parla sempre di qualche energia bloccata o che impedisce certi tipi di movimenti. Ed essendoci anche la carta dell'eremita è come se qualcuno si sentisse un po' bloccato da solo, cioè nel senso che non si può fare molto in questa situazione da soli, oppure proprio una questione che ci si sente soli e bloccati in una relazione o in una situazione. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi, intanto come dico sempre, ragazzi le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto, prendete quello che vi serve, lasciate andare il resto all'universo e se volete completare il messaggio se per caso non risuonasse nulla, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. C'è una guida sotto nella descrizione del video che vi spiega come trovare l'ascendente, come unire più oroscopi, le linee di tempo, insomma è un video interessante. C'è anche il link ad un video che vi spiega di cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarvi. Allora, ruota della fortuna al contrario, 3 di bastoni, 4 di bastoni, 6 di coppe, 3 di coppe, asso di bastoni, 9 di bastoni. Ragazzi, la ruota della fortuna al contrario è come se mi stesse dicendo che qui c'è un ciclo che si ripete, vi ricordo che c'è il diavolo. È come se qualcuno fosse intrappolato nel karma, come se ci fosse una questione a giugno che si ripete. Magari cambiano i personaggi, cambia la situazione fisica, ma la dinamica si ripete. È un po' la sensazione che mi dà questa ruota della fortuna. Abbiamo anche il 3 di bastoni che in realtà è una carta che parla di viaggi, di movimenti, di espansione, di progetti che in qualche modo partono. Il 4 di bastoni potrebbe voler esprimere il vostro desiderio, la necessità, la volontà, ha la possibilità di creare qualcosa di più stabile, di più sicuro. Normalmente quando è un 4 è perché parla di contratti o di casa anche. Il 6 di coppe è come se mi dicesse che c'è un sogno che voi inseguiti da molto tempo. Magari è una persona che seguite da molto tempo. Però è anche una carta che parla di quel senso dell'amore un po' troppo romantico, un po' troppo da favola. Terminiamo poi con un 3 di coppia, un asso di bastoni, un 9 di bastoni e le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso andiamo a vedere questa ruota della fortuna, il contrario. Re di spade e 3 di pentacoli. Allora, se fosse una questione lavorativa è come se non cambiasse, come se la situazione non cambiasse, si rimanesse in certe rigidità, in certi schemi mentali. Io credo che ci sia un po' di paura di cambiare. Tenete presente che quando c'è il diavolo si parla anche sempre un po' di ego e l'ego è quello che è la mente ed è quello che scatena la paura. Andiamo a vedere questo tra i bastoni, perché sono due carte di progetto. Imperatore, wow! E 10 di bastoni, ho come la sensazione che sondando o sì, diciamo osservando, studiando altri mercati altri posti di villeggiatura mi dicono non so, magari qualcuno lavora nel settore del turismo è come se lì trovasse la vostra stabilità quando c'è la carta dell'imperatore si parla di qualcuno che ha bisogno di creare le proprie regole guardate, potrebbe essere un padre o un capo perché sia re che imperatore quindi ho qualcuno qui si deve allontanare dalla situazione appunto per creare più stabilità andiamo a vedere il 4 di bastoni perché tecnicamente ci sono possibilità di espansione con questo 3 di bastoni è un po' come se però con questo 10 di bastoni dovesse togliervi delle responsabilità dei pesi che non sono vostri wow, imperatore, imperatrice e mondo al contrario allora se fosse una collaborazione o come la sensazione che abbiate bisogno di essere riconosciuti come la controparte se fosse una questione di romantica ragazzi o magari di coppia è come se ci fosse la necessità di creare qualcosa di più stabile qualcosa di più concreto di arrivare a una sorta di completamente tenete presente che avete due carte di completamento che sono girate al contrario quindi è come se mancasse qualcosa andiamo a vedere se di coppia per qualcuno sono i figli perché imperatore, imperatroce ho fatto un mix tra imperatrice, imperatore imperatrice, abbiamo il mondo abbiamo il 6 di coppe andiamo a vedere se di coppe stella e fante di spade si potrebbe per qualcuno risuonare come la volontà di avere dei figli e di costruire qualche cosa di più concreto magari di più concreto potrebbe anche semplicemente essere una casa migliore fare una ristrutturazione, ampliare anche se la sento molto a livello o lavorativo o di coppia ragazzi ve lo dico sinceramente qui c'è un sogno che si sta seguendo che si sta inseguendo mi verrebbe da dire può essere proprio questo sogno di creare una relazione stabile una collaborazione stabile tra questi imperatori e imperatrice andiamo a vedere il 3 di coppe perché il 3 di coppe è una carta di festeggiamento wow asso di denari di nuovo una carta che mi parla di bambini e 6 di denari allora io qui ho come la sensazione che effettivamente inizi una collaborazione o meglio c'è qualche cosa per cui festeggiare nella seconda settimana di giugno c'è un nuovo inizio, c'è un dono quando c'è un asso di denaro è sempre qualcosa che si muove in modo positivo si inizia guardate poi avete anche 6 di pentacoli quindi si parla di scambi commerciali vantaggiosi di nuove avventure se per caso per voi risuonasse anche magari come una relazione sul lavoro ipotesi il matto è sempre una carta di forte energie è anche una carta che mi parla di nuovo di bambini tra l'altro andiamo a vedere l'asso di bastoni ragazzi 6 di spade al contrario forza al contrario e carro al contrario guardate è un po' come se ci fosse una sorta di staticità da parte vostra mancanza di forza di volontà mancanza di azione cioè le carte vi dicono è ora di agire tenete presente che l'asso di bastoni si parla di un'azione fatta con intenzione cioè io faccio quel movimento lì perché so che mi porta a quel risultato di nuovo una carta che mi dice che vi dovete staccare da qualche cosa di cui vi state prendendo peso o di qualche cosa che ormai è entrato nella vostra vita come se fosse parte integrante però in realtà non vi appartiene andiamo a vedere questo 9 di bastoni la temperanza 10 di denari 10 di spade 9 di spade asso di spade ragazzi le carte vi consigliano di difendervi di mettere dei paletti di trovare un vostro equilibrio da un lato può essere il difendervi dal gruppo dalla famiglia dall'altro perché comunque qui avete delle carte che mi parlano di una fine sofferenza come se appunto con questi due assi con questo mondo 10 10 le cose incominciassero anche il matto le cose incominciassero effettivamente a cambiare ma è come se questo tipo di detossificazione doveste farla per conto vostro o come questa sorta di impressione perché in realtà poi non ho carte bruttissime che mi possano rappresentare il diavolo a parte la ruota della fortuna al contrario che mi rimanda un po' a qualche ciclo ciclo carmico che si è incastrato come vi dicevo all'inizio è come se ci fossero delle cose che si ripetono magari cambiano le situazioni cambiano le persone ma la dinamica è la stessa e invece qui è un po' come se vi dicessero ok se volete veramente raggiungere questo sogno questa stabilità che comunque c'è un festeggiamento però è ora di iniziare a far qualcosa sia per proteggervi sia per quello che riguarda la direzione da dare a questo progetto a questa situazione e alla chiarezza mentale perché comunque abbiamo un asso di spade e giustamente quando c'è il diavolo ragazzi c'è sempre un po' di contaminazione mentale di condizionamento forte siccome qui abbiamo anche un 6 di spade e il 10 di bastoni ho come l'idea che nella vostra testa le cose funzionino in un certo modo perché lo avete imparato così qua con l'imperatore si tratta di rompere gli schemi che avete imparato lasciarsi indietro le aspettative e le responsabilità che non sono vostre e vi direi anche i sensi di colpa perché se diciamo vi può aiutare sostituite la parola senso di colpa con responsabilità e vi rendete conto che vi alleggerite di pesi perché non sempre è quello per cui noi ci facciamo il senso di colpa effettivamente era una nostra responsabilità però si tratta di cambiare modo di pensare modo di agire e le proprie regole trovate le vostre quelle che secondo voi fanno funzionare questo commercio o fanno arrivare a questa stabilità e a questo sogno interessante guardate in realtà la solitudine del mago qui io non la sento tanto anzi siete abbastanza attorniati da gente il punto è un po' come se vi dicessero trovate la forza interna da soli il sole e anche il matto sono carte che parlano del bambino interiore e l'eremita è un personaggio che fa una autoanalisi quindi utilizzate diciamo l'energia di questa autoanalisi per andare a curare il bambino interiore qui avete la carta della temperanza è proprio quella che vi parla di guarigione quello che mette in equilibrio quello che si dà e quello che si riceve in mette in equilibrio quello che vuole la testa e quello che vuole il cuore è come una bilancia diciamo ok andiamo a vedere un oracolo per vedere che cosa vogliamo dire in chiusura wow pace carta numero 23 guardate è la pace della mente ed è anche un po' la pace del cuore quando la mente è in pace anche il cuore ne giova è un po' quello ragazzi lasciate stare i pensieri e le aspettative degli altri cercate di proteggere quello che avete costruito fino adesso quello che è il vostro spazio vitale mi parlano di polmoni quindi se per caso qualcuno avesse problemi di respirazione o di affanno molte volte questi disturbi sono psicosomatici quindi nel momento in cui voi imparate a prendervi più spazio con le altre persone a livello energetico cioè a dire no adesso non ho tempo no scusa non ho energie per seguirti nel momento in cui voi vi prendete il vostro spazio anche questi tipi di disturbi si affievoliscono carta numero 23 magari per qualcuno può risuonare e poi abbiamo wow l'isola del tesoro ma in effetti vi dirò che qui in fondo abbiamo un bel 10 di pentacoli che è una carta che parla di denaro è una carta che parla di doni come anche il lasso di bastoni ed è una carta che parla di contratti quelli che vedevamo qui all'inizio se difendete il vostro territorio io sento che arriveranno dei contratti proficui ragazzi wow molto bello questa è una carta numero 9 anche l'eremita è una carta numero 9 è una carta di iniziazione è come se doveste effettuare un passo liberarvi del vostro ego o dall'ego degli altri quello che gli altri vi fanno credere o vi hanno fatto credere fino ad adesso essere importante nella vita magari per qualcuno è importante avere una casa grande per qualcun altro più importante viaggiare bene amici dei pesci questo è quello che avevo per voi fatemi sapere poi come vi risuona nei commenti se comunque la lettura vi è stata utile per navigare le prossime energie potete farmelo sapere con un like potete iscrivervi al canale condividere potete fare una donazione ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che continuano a sostenere il canale che si prendono anche solo quel secondo per mettere il like vi comunico anche che le previsioni per l'oroscopo di giugno del lavoro sono già pubblicate sono già online e le trovate comunque nella sezione delle playlist io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao